Un laboratorio per preparare arrosticini, un ristorante e un laboratorio di cucina di un locale sulla costa teramana, chiusi per violazioni in materia genico-sanitaria, con il sequestro di oltre 40 kg di alimenti preparati di pesce. Sanzioni per oltre 15.000 euro sono i risultati dei controlli dei Carabinieri del Nasto di Pescara nel weekend per contrastare il binge drinking. I militari, coordinati dal Capitano Domenico Candelli, hanno operato in collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri Giulianova e Colas di Teramo. Obiettivo scongiurare la somministrazione di bevande alconiche a minori. Nell'ambito della verifica delle corrette condizioni igieniche di cucina ed esercizi di ristorazione, contravvenzionati due locali di Giulianova, per le cattive condizioni appunto e il mancato rispetto dell'autocontrollo. Chiuso in collaborazione con la As di Teramo, un laboratorio per la preparazione degli arrosticini proprio a Giulianova. Ad Albadriatica, invece, è stato ispezionato, con i Carabinieri della locale Stazione, un altro locale, dove sono stati trovati dei giovanissimi che consumavano alcolici. In questa circostanza, i NASA hanno trovato laboratori attivati abusivamente dove si preparavano alimenti. La ASL ne ha disposto la chiusura. Infine, all'interno di un'attività del settore alimentare, sono stati rinvenuti una quarantina di chili di preparati di pesce privi di tracciabilità, con la presenza di mitili anonimi potenzialmente rischiosi per la salute. In questo specifico segmento di attività, nelle ultime settimane, soprattutto sulla costa teramana, sono stati effettuati una serie di verifiche e controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, con sanzioni e sequesti, in alcuni casi, con provvedimenti di chiusura per il mancato rispetto di parametri minimi, infatti, di sicurezza alimentare.